I risultati di uno studio in via di pubblicazione sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal sembrano aggiungere alcuni interessanti tasselli al mistero della materia oscura, una delle più grandi domande dell'astrofisica moderna tuttora senza risposta. I risultati di questo studio potrebbero infatti mettere in discussione le teorie cosmologiche comunemente accettate che prevedono l'esistenza di un particolare tipo di materia che non emette radiazione elettromagnetica ma che può essere rilevato in forma indiretta soltanto attraverso gli effetti gravitazionali. Fa parte del gruppo di ricerca che ha firmato questo studio anche Federico Lelli dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Questo nuovo studio aggiunge un nuovo tassello alla domanda della natura della materia oscura. La materia oscura è uno dei pilastri fondamentali delle teorie cosmologiche moderne che descrivono l'evoluzione dell'universo e di tutte le sue componenti come ad esempio le galassie o gli ammassi di galassie e si ritiene che sia una nuova particella che non emette luce e quindi per questo motivo oscura e che sia ancora da scoprire. La materia oscura dovrebbe formare degli enormi aloni di materia che praticamente inglobano la galassia e che quindi causano un comportamento anomalo rispetto a quello che ci si aspetterebbe solo dalla materia visibile del movimento di stelle gas al suo interno. Ad esempio, la materia oscura è stata proprio introdotta per spiegare quelle che vengono chiamate le curve di rotazione delle galassie, ovvero come la velocità di una stella o di una nube di gas varia in funzione della distanza dal centro galattico. In questo nuovo studio noi riusciamo a tracciare le curve di rotazione delle galassie a grandissime distanze dal centro, circa 20 volte più distanti rispetto a studi precedenti. Quindi questo ci permette di capire quale debba essere la massima estensione di questi aloni di materia oscura rispetto a quello che è stato fatto in studi precedenti. Rispetto al contesto scientifico già consolidato, che cosa aggiunge quindi un risultato del genere? Rispetto al contesto generale, questo risultato indica che le curve di rotazione delle galassie rimangono piatte, ovvero la velocità non varia con il raggio, rimane costante, fino a grandissime distanze dal centro. E questo è sorprendente perché ci si sarebbe aspettato che ad un certo punto l'alone di materia oscura dovesse avere un limite, un bordo, e quindi al di là di tale limite la rotazione di un oggetto dovrebbe decrescere. Così come avviene ad esempio per i pianeti attorno al Sole, la cui velocità di rotazione diventa man mano sempre più breve, come ci si allontana dal Sole. Invece appunto troviamo che queste curve di rotazione rimangono piatte, ovvero la velocità rimane costante, fino a grandissime distanze. Questo fatto diciamo non è facile da spiegare secondo le teorie convenzionali, perché appunto si sarebbe aspettato di aver raggiunto il bordo estremo dell'alone di materia oscura. Secondo voi quindi la materia oscura esiste o ci sono delle alternative possibili? Ci sono delle alternative possibili, ad esempio possiamo cercare di modificare le leggi gravitazionali di Newton e Einstein nei regimi opportuni. Ad esempio c'è una teoria che è stata proposta nel 1983 da Morteheim Milgram, detta MOND, che sta per Modify Newtonian Dynamics in inglese, ovvero dinamica newtoniana modificata, e secondo questa teoria abbiamo bisogno appunto di una modifica alle leggi gravitazionali di Newton nei regimi di bassissime accelerazioni, che sono i regimi tipici nelle zone più esterne delle galassie. E questa teoria aveva proprio predetto che le curve di rotazione dovessero rimanere costanti a grandissime distanze dal centro galattico per oggetti relativamente isolati. E quindi diciamo che le nostre nuove osservazioni corroborano questa predizione che era stata fatta più di 40 anni fa. e quindi diciamo che le nostre nuove osservazioni